Ciao a tutti! Oggi facciamo le braccia e uniamo il corpo che abbiamo fatto la scorsa volta. Allora iniziamo lavorando un anello magico e sull'anello magico facendo ci agganciamo con la catenella e lavoriamo 6 maglie basse. 3, 4, 5 e 6. Ok, adesso tiriamo la codina. E mi aggancio sulla prima maglia bassa lavorata del giro. Ok, adesso però prima vado a mettere il filo marca punti. Metto il filo e mi aggancio alla prima maglia bassa del giro. Ok, e quindi adesso parto per il secondo giro. Il secondo giro lo dobbiamo lavorare con 12 maglie basse per cui ogni maglia sottostante dobbiamo fare un aumento. Per cui sullo stesso punto lavoro 2 maglie basse per ogni maglia che mi trovo sotto. fino alla fine del giro. Ok, sposto il filo e lavoro i prossimi 3 giri con tutte maglie basse senza fare aumenti. Quindi 3 giri da 12 maglie basse ognuno. Ecco qua. Adesso iniziamo il sesto giro e dobbiamo andare a lavorare un punto nocciolina con 4 maglie. Allora, con 4 maglie alte. Allora, lavoro una maglia alta più altre 3 maglie. 1, 2, 3, 4 maglie alte. Adesso lascio il gappietto, vado a infilarmi sulla prima maglia alta e mi porto dentro il gappietto. E poi vado di nuovo a lavorare, continuo a lavorare le maglie basse. Quindi lavoro le altre 11 maglie basse. Creando la maglia bassa già vedete che viene dal punto nocciolina. Quindi finisco il giro con tutte le restanti maglie basse e poi ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua. Adesso taglio la codina iniziale perché mi sta dando fastidio. E vado avanti. Nel settimo giro dobbiamo fare delle diminuzioni. Allora, inizio lavorando una maglia bassa sul punto nocciolina. e lavoro l'altra maglia sul punto successivo che è qui. Quindi 2 maglie basse. Adesso lavoro una diminuzione. Quindi prendo due soline e lavoro la diminuzione. Ok, quindi di nuovo lo schema 2 maglie basse. E una diminuzione. Ok, e lo faccio ancora una volta, così da ottenere 9 maglie basse. Ok, è terminata la mano. Adesso vado a lavorare 16 giri di 9 maglie basse. Per cui niente aumenti e niente diminuzioni tutti i giri da 9 maglie basse. Ed ecco qua. Allora, adesso tolgo il filo marca punti. Non ci serve più. E vado a mettere poca poca di ovatta dentro il braccio. Aiutatevi con la matita a inserirla bene. L'ovatta non deve essere tantissima. Diciamo che deve venire più o meno questo spessore, diciamo. Ok? Adesso andiamo a chiudere, diciamo, il lavoro del braccio lavorando 3 maglie bassissime. Ok, giro il filo e posso tagliare. Chiaramente ne devo lavorare un altro. Ed eccoli qua. Pronti per essere attaccati. Prima di andare ad attaccare le braccia andiamo a lavorare altri tre giri con 28 maglie basse. Il che significa che devo lavorare senza fare né aumenti né diminuzioni. Ogni maglia che mi trovo sotto ne lavoro un'altra. Quindi per tre giri. Inizio il cinquantottesimo giro e lavoro 3 maglie basse. Adesso prendo il braccio. Allora lo posiziono come voglia che rimanga sulla bambola. e vado a inserire l'uncinetto dove credo sia il punto giusto, diciamo. Se lo metto qui il braccio mi rimarrà in questa posizione. Per cui prendo il gappietto ed entro in quella maglia. Ed entro anche nella solina della maglia successiva del corpo. Quindi passo attraverso tutti i due punti, tiro su e lavoro una maglia bassa. Ora vado a fare il giro del braccio. Quindi devo lavorare su ogni maglia successiva un punto. Quindi faccio tutto il giro, lavoro ogni punto del braccio e poi mi ritrovo dall'altra parte. controllo bene di aver lavorato tutti i punti. Quindi questo è il primo dove mi sono proprio attaccata. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Quindi adesso posso proseguire a lavorare sul corpo. Guardo bene quale sia il punto. Vedete qui mi sono attaccata. Per cui il punto successivo è questo. E lavoro una maglia bassa. Ok. Adesso praticamente compresa questa devo lavorare quattordici maglie basse. Per cui altre tredici. Ora faccio la stessa cosa dall'altra parte. Per cui prendo, inserisco, diciamo, l'uncinetto sul gappietto e vado a inserire l'uncinetto nelle due maglie in modo che il braccio mi rimanga nella posizione desiderata. Ok. Quindi entro, prendo il filo, esco fuori da tutte e due le maglie. E chiudo. Faccio la maglia bassa. Ora di nuovo lavoro tutto intorno al braccio, come ho fatto nell'altro, in modo da ottenere sempre comunque nove maglie, compresa questa. Ok. Adesso, attaccato il braccio e lavorato i nove punti sul braccio, vado ad attaccarmi dall'altra parte e inizio a lavorare di nuovo sul corpo. Ok. Controllato bene qual è il punto dove lavorare. Quindi lavoro una maglia bassa. Quindi lavoro nove maglie basse, compresa quella che già ho lavorato, fino ad arrivare alla fine del giro. Ora lavoro un giro di tutte le maglie basse, senza aumenti e senza diminuzioni, per un totale di 46 maglie basse. Inizio il cinquantanovesimo giro e lavoro quattro maglie basse. Ora vado a lavorare quattro diminuzioni su tutto il braccio. Quindi questa è la prima e lavoro le altre tre. Ora lavoro quattordici maglie basse. Arrivata all'alto braccio, lavoro altre quattro diminuzioni. Concludo il giro lavorando dieci maglie basse. Queste codine potete tagliarle. Inizio il sessantesimo giro. Devo lavorare quattro maglie basse e una diminuzione, per un totale di sei volte. Una, due, tre, quattro e adesso lavoro la diminuzione. Ok, adesso vado avanti, quindi ripeto quattro maglie basse e una diminuzione per altre cinque volte. Sessantunesimo giro. Ora lavoro tre maglie basse e una diminuzione. Per altre cinque volte. Sessantunesimo giro. Sessantunesimo giro. Lavoro due maglie basse e una diminuzione per sei volte. Per altre cinque volte. Ora vado a riempire ancora un po' di ovatta. Sistemo anche le braccia. Sessantunesimo giro. Sessantunesimo giro. Lavoro una maglia bassa e una diminuzione per sei volte. Ok, eccoci qua. Adesso lavoriamo quattro giri di dodici maglie basse, quindi nessuna più diminuzione, solamente dodici maglie basse ogni giro. Finite di sistemare bene l'ovatta dentro, aiutandovi anche con una penna o con un cinetto, insomma quello che vi rimane più comodo, in modo che sia bella piena la bambolina. Concludiamo il lavoro con il sessantottesimo giro in cui dovremo andare a lavorare sei diminuzioni. Ecco qua. Tiriamo adesso il filo, tagliamo e andiamo a fermare. Possiamo togliere anche il filo marca punti, non ci serve più. E andiamo a fermare il filo. Con un ago da lana sistemo il filo, la colina, e vado a chiudere il lavoro. Faccio un nodino, un mezzo e poi nascondo il filo. Ed ecco qua, il corpo della bambolina è pronto. Ora ci rimane di fare la testa. Allora, per oggi mi fermo qui. I prossimi giorni faremo il video per la testa. e quindi buon lavoro e ciao a tutti.